Questa per noi è anche una scelta di vita sostanzialmente, soprattutto per Marco che ha messo a disposizione gli spazi. Un'avventura che dovevamo provare, però dobbiamo anche cercare di far quadrare le cose, quindi casa mia poteva essere utile alla cosa, il salotto è bello spazioso. Ma siete fidanzati? No, però probabilmente condivideremo più tempo insieme di quanto... Va bene, va bene. Viva la figa, diciamo così, a caso, giusto per chiarire, però con rispetto.